Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nello corso di questo lunedì 25 aprile, giorno della festa della liberazione, avremo due tipi di tempo tra nord e sud. Il nord parte del centro, se la vedranno con correnti umidi atlantic che porteranno a piogge forti temporali, il sud e le isole maggiori se la vedranno invece con l'alta pressione africana che regalerà una nuova giornata, tipicamente primaverile. In Abruzzo si prospetta un inizio di settimana variabile, qualche addensamento nelle aree più interne e in Appennino, con qualche scroscio di pioggia pomeridiano, ma nulla di particolarmente significativo, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie massime tra 16 e 20 gradi, minime tra 6 e 12 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.